A dove? Vieni più qua. State tranquilli siamo quasi arrivati. Eh ma non è possibile, mi dite quella a me. Oh signate, è facile avere l'appare. No, per evro. Quando tutto manca te ne vai tu. Ma chiamate per evro. Ma ma volete venire a comandare, perché? Mamma mia è un po' che sacrificio. Ma non ve ne potevo tornare come siete venute, no? Ma volete fermare, cadrete. Ma che voi credete che è una pazienza? Fermati. E perché? Vieni a te vedere, ma. Bravo. Vieni. Sei più comodo lì? E a te che te l'importo. E che bello ringraziamento. Vieni a te vedere se mi affano, giro prima di tornare a casa. Eh sì. Ma direita lì? No. 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 Grazie a tutti.